La nostra scuola è messa nel verde ed è circolata da giardini su ogni lato. Ogni classe affaccia su un giardino e infatti spesso passiamo la ricreazione all'aperto. Inoltre a volte capita di fare lezione oppure alcuni progetti all'aperto, infatti nella parte più alta del giardino sono situate delle panchine in cui noi all'unico ci sediamo per assistere alla lezione. Questa cosa ci aiuta molto anche in questo periodo in cui dobbiamo tenere le mascherine per prendere un po' di aria fresca. Grazie. 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 Grazie.